Qual è il ruolo di iniziative come Io non Sclero, che da anni coinvolge online le persone per portare alla luce storie di vita con la sclerosi multipla? Sicuramente è un confronto con i propri pari, quindi riuscire a confrontarsi con persone che realmente capiscono quale può essere la tua condizione, quindi è anche un modo di inclusione per le persone con sclerosi multipla. Quindi, secondo me, sono importantissime. Quali sono i bisogni delle persone con SM e delle loro famiglie, al di là dell'aspetto puramente terapeutico? Si parte dall'affermazione dei diritti, che è una vasta area in cui noi andiamo a fermare i diritti delle persone con sclerosi multipla e, visto che colpisce soprattutto i giovani, il mantenere il posto di lavoro o aiutarli a trovare un posto di lavoro. Comunque, AISM è sempre al fianco delle persone per quanto riguarda l'informazione, risposte concrete, aiuti concreti, alle persone con sclerosi multipla e ai giovani su tutto il territorio nazionale. Però è una malattia giovane, i giovani non hanno bisogno di assistenzialismo grazie a di oggi e quindi, di conseguenza, hanno bisogno di risposte, hanno bisogno di essere motivati, hanno bisogno di essere integrati. E' lì che dobbiamo andare a battere.